Parla Aquilano, il robot per la pulizia dei pannelli fotovoltaici controllabile anche tramite il proprio smartphone, un prodotto di ENIAC, Energie Nuove Integrate, la prima azienda aquilana in Italia ad aver realizzato lo Smart Robot, azienda giovanissima tra l'altro nata nel giugno del 2020. Dell'occupazione reale nella robotica, nell'industria e nell'energia si è parlato in un convegno nel capoluogo all'emiciclo con un doppio filo, l'Aquila ed Emirati Arabi. Tra i fattori che influenzano la produzione energetica degli impianti, la pulizia è fondamentale. L'azienda aquilana ha maturato negli anni esperienze importanti in Europa, Africa, Brasile e Medio Oriente. ENIAC vuole presentare al pubblico una tecnologia del tutto nuova a livello mondiale, parlo a livello mondiale, di un prodotto che è in grado di dare dei servizi per massimizzare l'energia elettrica da radiazione solare. Questo è l'obiettivo di ENIAC, che si sta sforzando proprio di riportare in questa città un livello occupazionale elevato, utilizzando proprio tecnologie, così come l'acquisizione di indirizzi a livello governativo e di finanziamenti italiani e europei, nazionali ed europei. Quali sono i vantaggi, e si va sempre più verso l'utilizzo di energie nuove, energie pulite, di utilizzare un robot del genere? Non inquinare l'ambiente e lasciare ai nostri figli un ambiente pulito. I campi di applicazione dei robot del resto sono moltissimi, dalla medicina alla difesa, passando per i trasporti. L'obiettivo però non è assolutamente quello di sostituire il numero degli addetti, come si può pensare quando si parla di robot e intelligenza artificiale. Ma anzi, uno degli obiettivi di ENIAC è proprio quello di aumentare la richiesta ed aumentare quindi l'occupazione sul territorio, perché servono artigiani, ingegneri tecnici, insomma, tutte quelle figure importanti per la produzione dei robot e per il loro sviluppo.